Ciao, sono Mare Grazia, Master Beauty Trainer di Eurocom Academy e oggi parliamo di pancia gonfia. Capita anche a te di sentire la pancia gonfia, dura, la mente annebbiata, la testa pesante, svegliarti al mattino e sentirti stanca ancora prima di aver iniziato la giornata? Le cause possono essere tante, intolleranze, errate combinazioni alimentari, troppa frutta e verdura durante lo stesso pasto, così come lo stress e addirittura gli stati d'ansia. Eh sì, perché l'intestino è il nostro secondo cervello e può influenzare non solo la digestione, ma anche l'umore, il comportamento e perfino la memoria. Una corretta alimentazione, dell'esercizio fisico e delle attività rilassanti come la meditazione o il massaggio possono aiutare a risolvere queste tensioni addominali. Io ti consiglio presso Dinami la tecnologia che effettua un massaggio addominale peristaltico, ritmato e vibrato, che segue tutto il percorso del colon in modo molto, molto rilassante e piacevole. E in soli 20 minuti ritrovi benessere fisico e mentale. Migliora anche la peristalsi intestinale e ovviamente la silhouette. La routine perfetta, sana alimentazione, meditazione e presso Dinami. Puoi prenotare le tue sedute di pancia gonfia presso i centri estetici Starvac e compresso Dinami cliccando sul link sotto indicato. Seguici per ulteriori consigli e se ti va, raccontaci la tua esperienza.